Allora, come detto, questo panel a me quando è stato presentato dalla Iacobacci mi è sembrato subito molto gustoso perché noi parleremo appunto delle sfide della trasformazione digitale con un focus ben specifico sull'agricoltura di precisione, sulla robotica, sul settore aerospaziale, sulla medicina ed energia. Io proprio dall'energia vorrei iniziare con l'intervento di Romano Borchiellini che ci parlerà appunto di digitalizzazione e ricerca dell'università e della ricerca. Una nota di servizio, dopo gli interventi daremo spazio per le domande al pubblico quindi nel frattempo chi vorrà fare domande magari ci pensa un attimo se le assegna e poi alla fine faremo un rapido giro, avremo uno spazio da 5 minuti per le domande e le curiosità che avete per i nostri relatori. Professore Borchiellini, prego. Sì, grazie. Innanzitutto vorrei iniziare dicendo che avendo ascoltato le presentazioni precedenti mi veniva quasi voglia di rinunciare all'intervento perché è stato detto... Mi scusi, io stavo pensando... Prima una riflessione ho fatto, meno male che non c'erano redattori politici. Non so come sarebbe andata a finire oggi. Posso dire che comunque insomma quello che è stato detto è sicuramente molto condivisibile devo dire in particolar modo l'intervento del professor Varaldo lo sposo in pieno, anzi diciamo potrebbe essere un po' la base anche per alcune, come dire, il punto di partenza per alcune delle riflessioni. Riflessioni che ovviamente sì sono sulla legame digitalizzazione energia ma è difficile semplicemente in cinque minuti parlare di un problema di questo tipo per cui vorrei invece cercare di dare alcuni flash riguardo allo scenario in cui ci muoviamo. Cioè mi spiego meglio. È stato già diciamo sostanzialmente detto ma mi piace ribadirlo. OXE definisce bene cos'è la next production revolution, tra l'altro è stato ribadito poi anche nel G7, non ve la descrivo ma è un elemento importante, cioè non sto a soffermarmi sulla definizione ma è un elemento importante. Insieme, mettete insieme accordi sul clima di Parigi e l'agenda 2030. Questi due elementi sostanzialmente sono gli elementi che ci fanno capire che stiamo vivendo un momento in cui non stiamo parlando solo di innovazione tecnologica, non stiamo parlando solo di qualche cambiamento nei processi produttivi ma probabilmente siamo di fronte a qualcosa di molto più ampio che va a toccare le strutture sociali, va a toccare le disuguaglianze, i livelli di ricchezza e così via. Perché questo è importante? Perché innanzitutto anche l'innovazione in ambito digitale ha sì ovviamente una caratteristica di innovazione di prodotto ma ce l'ha soprattutto come innovazione sistemica. Quindi induce cambiamenti che vanno ben al di là appunto della possibilità di fare o non fare qualcosa. Ci cambia un po' il modo di vita come altre diciamo questioni. Tanto è vero che come universitario voglio un po' ribadire che diciamo è importante riflettere sul significato di alcuni termini che continuiamo a usare diciamo in modo diffuso e anche semplicemente perché essendo diffusi ci vengono facilmente in mente. Innovazione, trasferimento tecnologico, digitalizzazione. Esattamente cosa intendiamo e soprattutto per esempio che ruolo, che connessione hanno con il termine sostenibilità, altro termine molto utilizzato. Ovviamente l'università è un ambito in cui diciamo si prova a contribuire a rispondere a queste domande cercando di mettere in evidenza ad esempio che innovazione non è solo innovazione tecnologica o perlomeno non ha il significato solo di innovazione tecnologica ma ambisce o dovrebbe ambire al fatto di comunque rispondere a delle esigenze della società. Cioè quindi non dobbiamo trasformare innovazione in un'innovazione fine a se stessa ma deve essere finalizzata degli obiettivi che appunto diciamo normalmente la politica dà ma comunque devono essere all'interno di una visione di società. Tutto questo perché? Perché se appunto mettiamo insieme digitazione, mettiamo insieme energia altro diciamo tema che assolutamente va a toccare ovviamente la questione sociale per parlarne, per capirle abbiamo bisogno ovviamente di tanti di quegli ingredienti che sono stati detti prima. Prima o fa tutto è un approccio non solo multidisciplinare ma anche multiattoriale, cioè non c'è solo la ricerca, ci vuole l'impresa, ci vuole diciamo anche quella che chiamiamo la pubblica amministrazione ma con questa vuol dire anche una visione, cioè che dovrebbe portarsi dietro anche una visione politica. Ora, quello che ho appena detto è qualcosa di molto complesso, io vi posso solo dire che avere la capacità di mettere insieme questi attori dovrebbe aiutarci a creare una capacità di analizzare l'esistente e avere una visione del futuro che aiuti appunto anche a non solo fare ricerca ma anche a fare investimenti e quindi a fare diciamo crescere la produttività. Chiudo perché credo di aver quasi esaurito il tempo semplicemente dicendo qui al Politecnico questo diciamo un tentativo di fare questo, cioè di costruire sostanzialmente uno spazio fisico in cui questi tre diciamo elementi convivano per dare proprio modo poi di creare la capacità di avere analisi di scenario e di visione attraverso FinTech, gruppi di lavoro e proprio l'Energy Center che diciamo da un anno sta vivendo, diciamo è stato inaugurato da un anno e qualche mese. Credo di aver usato i cinque minuti, se ne ho ancora parlo. No, mi sa che sono terminati, grazie. Io le faccio subito una domanda, lei parla appunto dei processi di trasformazione, quanto sono sostenibili? Ecco appunto questo è l'open issue, nel senso che sulla sostenibilità anche qui lancio come dire un sassolino e poi pronto a raccogliere ovviamente, noi ci muoviamo in un sistema senza metrica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi in realtà in questo momento sappiamo che quello che facciamo in sostituzione di qualcos'altro è più sostenibile del precedente, ma non sappiamo dire se appartiene, cioè se è in grado di darci un sistema sostenibile come la definizione richiede, cioè di lasciare inalterate o praticamente quasi inalterate le risorse, cioè dare alle generazioni successive quello che abbiamo. Per avere quello bisogna avere una visione di società sostenibile e a oggi questa non esiste, quindi io non ho una metrica per assegnare un punteggio per dire a due soluzioni in alternativa tra loro, so che sono migliori probabilmente di quello che c'è e quindi le vado ad applicare perché comunque miglioro, ma non riesco ancora a fare queste affermazioni. Quindi questo è un è un settore su cui ovviamente si aprono ed è di nuovo un settore multidisciplinare assolutamente perché bisogna toccare dalla tecnologia fino al comportamento dell'individuo, però questo è il tema grande, cioè noi stiamo dicendo che stiamo facendo cose sostenibili, le rinnovabili, tanto per toccare il tema energia, tutti le individuiamo come qualcosa che è assolutamente sostenibile e sicuramente è molto meglio che bruciare un combustibile fossile, su questo penso che tutti ne abbiamo l'accontenza, ma che poi tutto un sistema rinnovabile sia sostenibile e quello dobbiamo ancora dimostrarlo, per esempio, perché deve comunque garantire per esempio anche lo stesso tasso di vita media di oggi, devo portarmi dietro tutte le altre cose che danno comunque un concetto di sostenibilità. Perfetto, grazie. Allora, robotica e trasformazione digitale. Ennio Chiatante di Comau ci racconterai due progetti molto suggestivi. Buongiorno a tutti. Si vorrei portare due esempi concreti di quello che Comau ha fatto nell'affrontare l'innovazione e questa trasformazione digitale, che peraltro toccano molti dei temi che sono già stati affrontati questa mattina dagli altri relatori. Il primo è lo sviluppo di un robot seasi antropomorfo, quindi del tutto simile a quello che è un robot industriale, però orientato all'educazione. Quindi per cominciare a trasferire delle nozioni di robotica e di automazione industriale sin dai ragazzi delle scuole elementari, per esempio. Questo è stato affrontato peraltro in maniera molto diversa da quello che sono i normali processi aziendali di Comau, quindi creando all'interno di Comau un piccolo nucleo di persone che potessero operare come fossero una start-up, quindi al di fuori di quelli che sono i processi aziendali di una grossa azienda come la Comau. L'obiettivo appunto era quello di creare un piccolo robot che è classificato come robot domestico, quindi si può tenere anche a casa, che ha in tutto e per tutto le fattezze e i movimenti di un robot industriale a sei assi, concepito in maniera completamente modulare, completamente open source e che per Comau, questo anche è un'innovazione, noi vendiamo online per la prima volta, quindi un'innovazione anche da parte nostra. Acquistando questo robot si entra anche a far parte di una community all'interno della quale ci si può scambiare quelli che sono i programmi, le applicazioni che ognuno sviluppa con questo robot e quindi avendo un interscambio in modo molto open di nuovo anche con Comau su quello che sono le potenzialità di questo robot. Intorno a questo robot poi stiamo costruendo una serie di pacchetti formativi che vanno dal riuscire ad avere un patentino della robotica, quindi poter imparare a programmare un robot e ad avere una certificazione da parte di Comau come programmatore di robot industriale, ma anche per aiutare quelli che sono i normali corsi e gli insegnanti delle scuole per riuscire ad attirare più attenzione degli studenti nel fare lezioni anche di matematica o di trigonometria utilizzando un robot e quindi potendolo programmare in classe utilizzando questo piccolo robot come incentivo ad imparare anche materie che non sono strettamente legate a quello della robotica. Secondo esempio che vorrei portare è quello che abbiamo sviluppato con Juvo, che peraltro potrete vedere poi sotto nella gallery, Juvo che è una spin off della scuola superiore Sant'Anna, nella quale Comau ha investito, ha investito assieme a un'altra azienda islandese che si chiama Osur, specializzata in protesi e insieme con Juvo abbiamo sviluppato quello che è un esoscheletro, quindi di nuovo leggermente fuori da quello che è il normale contesto di sviluppo di Comau, che ha sempre fatto automazione industriale in particolare e robotica, lo sviluppo di un esoscheletro e quindi di un robot indossabile, che di nuovo potrete vedere al piano di sotto per applicazioni industriali. In questo caso il primo prodotto è un esoscheletro per arti superiori totalmente meccanico, appunto sviluppato e che andrà sul mercato a partire dal prossimo mese. Grazie. La domanda per lei è una domanda da un milione di dollari, criticità e vantaggi sui approcci di sviluppo dei progetti e delle applicazioni anche di cui ha parlato adesso. Due minuti. Direi la criticità principale è riuscire a integrare questo approccio di sviluppo all'interno dell'azienda, quindi anche il cambio culturale che abbiamo dovuto fare noi in Comau per riuscire a sviluppare questi prodotti in modalità non tradizionale. Quindi in entrambi i casi, mentre nelle fasi iniziali siamo stati molto più veloci, poi quando si è trattato invece di riuscire ad arrivare sul mercato, quindi con un prodotto certificato, secondo quelli che comunque sono i nostri standard aziendali, abbiamo avuto un rallentamento rispetto a quello che ci si poteva aspettare con delle realtà che avevamo creato più piccole ad hoc proprio per riuscire a dare velocità. Quindi un rallentamento nella parte finale. Il vantaggio, essere riusciti a creare dei prodotti completamente nuovi con degli approcci completamente diversi da quello che è appunto il nostro approccio tradizionale. Al momento in particolare Edu, che è già sul mercato, sta avendo un discreto successo. Su quello che è MATE, che è il nome del nostro esoscheletro, ancora non sappiamo, ce lo dirà il mercato, spero. Grazie, grazie. Paolo Colombo, ANSIS, nel suo intervento ci parlerà di simulazione numerica. Sì, ecco, ANSIS è un'azienda americana che si occupa di prototipi virtuali, quindi noi facciamo il software che viene utilizzato poi dalle altre aziende per fare quello che, visto che siamo in una scuola di ingegneria, possiamo dire, una simulazione strutturale, fluidodinamica, elettromagnetica, di software di controllo e ottica anche ultimamente. In parole povere, aiutiamo a costruire un laboratorio virtuale all'interno del quale si possono fare tutta una serie di test per essere sicuri che una volta che si costruisce il prototipo o il prodotto questo funzioni come era stato progettato. E naturalmente utilizzando strumenti virtuali si possono prima di tutto fare dei test che sono estremamente impegnativi o difficilmente riproducibili in natura. Per esempio, come facciamo a vedere se il rover che vogliamo mandare su Marte funzionerà. Non possiamo mandarlo su Marte il prototipo, ma in un ambiente virtuale si può fare. Oppure possiamo fare tutta una serie di verifiche che sarebbero estremamente costose o pericolose. Immaginatevi un aereo che vola in condizioni di ghiaccio e capire se questa cosa che stiamo costruendo è fattibile oppure no. Lavorando in virtuale oltre alla velocità abbiamo un risparmio impressionante di costi. Questo sta diventando estremamente importante al giorno d'oggi perché vediamo un po' tutte queste rivoluzioni a cui stiamo assistendo nel campo dei trasporti. Se prendiamo i veicoli, abbiamo veicoli elettrici, abbiamo veicoli che guidano da soli e stanno diventando un qualche cosa che entrerà presto a far parte della nostra realtà. Se guardiamo alla medicina, visto che qua abbiamo anche aziende medicali, stessa cosa, la medicina personalizzata oppure come velocizzare ed essere sicuri che un dispositivo medicale funzioni senza dover utilizzare una cavia per esempio. Nell'aerospazio stiamo parlando di velivoli ibridi ed elettrici, anche in questo caso aerotaxi, velivoli senza pilota, abbiamo visto delle grosse rivoluzioni nel settore spaziale trainate da start-up negli Stati Uniti. Quindi tutto questo ci sta esponendo a altissima complessità dove non abbiamo esperienza e dobbiamo costruirci questa esperienza molto velocemente. Addirittura per la certificazione sulle nuove tecnologie gli enti certificatori non sanno come fare a certificare alcuni prodotti. Siamo a questo punto, per cui il virtuale sta aiutando a costruire molto molto velocemente l'esperienza che ci serve per capire come funzioneranno questi oggetti e anche a farci un'idea di come certificarli in modo che siano estremamente sicuri. Concludo dicendo che le start-up stanno giocando un ruolo estremamente importante. L'anno scorso ho speso un mese intero negli Stati Uniti, ho visitato un centinaio di start-up, mi sono stupito di vedere un po' come immaginavo dei gruppi di ragazzi molto entusiasti, con delle idee forse un po' pazze, ma quello che non mi aspettavo invece era di vedere accanto a loro persone con i capelli bianchi, tantissima esperienza che uscivano da aziende importanti come Lockheed Martin, Boeing o centri di ricerca come NASA e quindi queste aziende non stanno facendo cose folli, stanno semplicemente portando nuove metodologie che permettono, tra cui il virtuale è veramente importantissimo, che permettono loro di accelerare lo sviluppo su delle idee che sono estremamente interessanti se hanno appunto le tecnologie che le permettono di arrivare sul mercato. Università estremamente importante anche in questo perché crea la mentalità, crea le persone che possono far funzionare poi queste tecnologie. Grazie. La domanda per lei, lei parlava di simulazione di prototipi digitali, la domanda è se possono sostituire per intero test fisici e la sperimentazione tradizionale, cosiddetta tradizionale. Allora la risposta è ni. Allora oggi direi per la maggior parte delle volte no per varie ragioni, anche perché le certificazioni prevedono alla fine dei test che devono essere fatti in modo fisico. A volte, molto spesso la simulazione non riesce ad arrivare a definire al 100% quello che succederà con un prodotto, ma siamo molto molto vicini. In alcune simulazioni noi abbiamo un 99.9% di precisione e sto parlando di simulazioni estremamente complesse. È chiaro che un prototipo fisico finale che ci dia un'ulteriore garanzia oggi viene ancora fatto. Abbiamo casi di aziende in cui invece la prototipazione fisica è stata completamente estromessa dal sistema. La cosa secondo me è molto interessante è invece quello che sta succedendo. Mentre fino a un paio di anni fa la simulazione mi aveva utilizzata nella parte centrale, quindi lo sviluppo e l'ottimizzazione del prodotto, adesso si tende a spostarla molto all'inizio, quindi nel pre-design quando io ho mille idee e voglio capire quali sono le cinque che hanno possibilità di funzionare. E poi si sta spostando molto nella post-ideazione del prodotto, quindi una volta che io ho il mio prodotto disegnato posso utilizzare tecnologie come l'additive manufacturing che però rappresenta tantissime problematiche, quindi se io vado a simulare il processo produttivo riesco ad esempio evitare delle deformazioni eccetera. E poi il concetto di digital twin, quindi un gemello digitale che mi permette di prevedere un malfunzionamento su un sistema e quindi prendere delle contromisure prima che il malfunzionamento accade. Grazie. Parliamo di start-up. Una start-up, Movendo Technology, il cofondatore qui Gio Di Saia, che ha come tra le missione una trasformazione digitale con il centro l'uomo. Sì, grazie a tutti anche per l'invito. Colgo la palla al balzo e quello che racconto è la storia di Movendo Technology che è prima di tutto una storia di persone, quindi al di là della tecnologia che è sicuramente un elemento abilitante, è una storia di persone. Persone che hanno deciso di scegliere, di cogliere questa opportunità in un contesto come quello della riabilitazione, di portare un cambiamento, un cambiamento molto forte, un cambiamento anche culturale in come si fanno le cose oggi e come ci immaginiamo che le cose si possano fare domani. Noi nasciamo con un percorso abbastanza lungo, io ho cominciato dieci anni fa nella cantina del King's College, in America cominciano nei garage e in Europa nelle cantine. Con la tesi di laurea ho fatto un percorso di sviluppo tecnologico, sono poi arrivato in IT a Genova e ho incontrato delle persone, colgo anche qui lo spunto dell'ingegner Colombo, delle persone di esperienza, quindi persone che avevano esperienza manageriale e esperienza industriale che si sono ritrovate in questa idea di provare a cambiare un settore come quello della riabilitazione e abbiamo messo le forze insieme per fare un percorso imprenditoriale. Questo ha portato a raccontare la nostra idea, la nostra vicenda a degli investitori istituzionali e delle personalità anche nell'ambito imprenditoriale e ci ha portato a incontrare un imprenditore illuminato che è Sergio Dompe, proprietario della Dompe Farmaceutici, che probabilmente conoscete, a decidere di investire. Quindi se vogliamo oggi, stiamo parlando di trasformamento tecnologico e trasformazione digitale, questo può essere un buon esempio, un buon esempio che può dare anche spunto ai ricercatori che stanno provando con i loro brevetti e con le loro idee nell'ambito della ricerca a uscire e andare verso l'industria, a persone che hanno voglia di mettersi in gioco nell'ambito imprenditoriale. Questo è un buon esempio, quindi un percorso di sviluppo di ricerca e di tecnologia all'interno dell'università passato da un centro di ricerca d'eccellenza come IT, un gruppo di persone con skills diverse, quindi dal managerialità di alto livello all'esperienza industriale all'esperienza tecnologica, un imprenditore illuminato che ha deciso di investire, è un'azienda che nasce muovendo fino al 2016 e che oggi conta 45 persone e opera diciamo in tutto il mondo, Europa, America e guarda all'Asia. Quindi questo è un pezzo di vita che noi abbiamo vissuto fino adesso ma ci aspettiamo di riuscire a portare il nostro contributo nella rivoluzione digitale nel mondo della riabilitazione. Grazie. Grazie. Domanda secca, anche perché mi stringono il tempo. Quali sono le difficoltà maggiori che avete incontrato in questa esperienza? proprio quella delle persone, nel senso che quando io ero ricercatore all'interno del mondo accademico, l'accademia tipicamente, qui è abbastanza forte come statement, però l'accademia tipicamente tende a non facilitare il trasferimento tecnologico, questo è un approccio non solo italiano, anche in alcuni contesti internazionali. Tende a guardare sempre molto la divergenza e non una convergenza. Quando ero ricercatore andavo a fare il pitch agli investitori, gli investitori mi dicevano qual è il tuo team, quali sono le persone, prima ancora di capire cosa fosse l'oggetto tecnologico, il prodotto. Io dicevo, myself, sono io, non ho altre persone. Quando poi ho incontrato persone con esperienza come Simone Ungaro che è il nostro amministratore, cofondatore Carlo Sanfilippo con esperienza industriale, ecco lì che si è formata veramente il contenuto per costruire l'impresa, perché poi alla fine sono le persone che fanno le cose. La tecnologia è abilitante, ma bisogna trovare un insieme di persone che abbia voglia di mettersi in gioco e di fare un percorso anche mettendo a repentaglio la propria esperienza professionale, la propria carriera professionale, perché comunque è un rischio di fare impresa. Grazie, grazie. Paolo Traso, CEO di Terra Telematics, ci parla dell'evoluzione dell'agricoltura di precisione. Grazie dell'invito e grazie di darmi l'opportunità di portare il mio semplice contributo. Ho provato ad asciugare il più possibile i contenuti e gli elementi che volevo condividere con voi in modo da rispettare il più possibile i tempi che ci siamo dati. Innanzitutto, Terra è una società italiana, torinese, celebriamo a ottobre, quindi alla fine di questo mese i nostri primi dieci anni. È una joint venture che nasce dall'incontro tra un'azienda tecnologica sempre torinese, la Divitec, che per anni ha sviluppato soluzioni telematiche avanzate per forze dell'ordine e per trasporto pubblico. Ha incontrato Topcon dieci anni fa, che è una multinazionale, quotata in borsa a Tokyo, che aveva la necessità di sviluppare soluzioni telematiche IoT nell'ambito dei mercati in cui già operava, in particolar modo la rilevazione topografica, la parte medicale, in particolar modo l'utilizzo di sistemi ottici per la cura e la diagnosi degli occhi e poi tutto il mondo del construction e dell'agricoltura. Considerate che Topcon è entrata nel mercato dell'agricoltura di precisione circa 15 anni fa, non di più, partendo quindi un po' in ritardo rispetto ad altri competitor. Oggi più o meno il fatturato di questo mercato per Topcon è il 15%, ma ha un rate di crescita incredibile. Giusto per darvi un contesto, non credo di dare dati particolarmente sconvolgenti o nuovi per voi, ma sapete che le proiezioni della popolazione mondiale per il 2050, quindi tra una trentina d'anni, parlano di quasi 10 miliardi di persone sul pianeta. Considerate che quindi l'innovazione tecnologica nell'agricoltura e quindi attraverso l'agricoltura di precisione non è solo una domanda di mercato, un'opportunità di progresso tecnologico, è proprio una risposta a un bisogno primario. Noi abbiamo bisogno di dare sostentamento e alimentazione in trent'anni a 10 miliardi di persone. Le stime che vengono fatte è che oggi l'agricoltura debba passare dalla produzione attuale a aumentare di circa il 70%, il che vuol dire quasi raddoppiare quello che riusciamo a produrre in agricoltura utilizzando le stesse risorse. Per risorse intendo il territorio che non crescerà a meno che non andiamo su altri pianeti e soprattutto alcune risorse scarseggeranno. Immaginiamo l'acqua, immaginiamo tutto l'aspetto più ambientale. Quindi si affacciano sfide estremamente importanti. La tecnologia in questo diventa nuovamente necessaria. Non è possibile pensare di utilizzare gli stessi mezzi, gli stessi strumenti per raggiungere questo obiettivo in un tempo relativamente breve. Si faceva riferimento prima all'importanza della ricerca multidisciplinare. Qui spendo soltanto una parola. È chiaro che soprattutto in questo ambito è particolarmente vero. Abbiamo bisogno di attività svolti in ecosistema perché qui parliamo di tecnologia nell'ambito dell'elettronica, della meccanica, dell'idraulica, dell'informatica, dell'agronomia e della chimica. Quindi apprezzo sempre molto le iniziative delle università che collaborano e soprattutto riescono a tenere insieme diversi dipartimenti e diverse competenze. Dico in poche parole secondo me le sfide principali e qualche spunto per il trasferimento tecnologico. Le sfide e l'ambito tecnologico di innovazione sono 1. Piattaforme connesse e perfettamente integrate. L'agricoltura di precisione è fatta di una molteplicità di elementi che devono essere tenuti insieme e quindi la centralità del software e la centralità dell'ambito informatico come raccolta dati, creazione di informazione da questi dati, valorizzazione di questa informazione. Scusate la semplicità e la brevità ma cerco di essere veloce. I tre ambiti di tecnologia sono misurazione, sensori che permettono di capire cosa sta avvenendo in agricoltura, l'applicazione variabile, usare le risorse in maniera più intelligente, solo dove serve, solo quando serve e l'automazione, arrivare quindi a utilizzare mezzi che possano lavorare da soli. Tre cose per quanto riguarda il trasferimento tecnologico, per quanto riguarda l'innovazione, un invito per dare valore all'attività di ricerca che viene fatta è concentrarsi e iniziare a ragionare spesso sui costi. A volte non c'è bisogno di inventare cose nuove, basta prendere quello che già c'è e provare a chiedersi come lo rendo meno costoso. Considerate che l'agricoltura avrà un trend molto importante in paesi emergenti, Asia, in particolar modo Thailandia, Malesia, Indonesia, India, che è vero che sono emergenti ma non hanno le risorse economiche per poter adottare da subito questo tipo di strumentazione. Consentire loro di avere strumenti analoghi ma a basso costo è un'innovazione estremamente importante. E poi l'applied research, la possibilità di lavorare insieme. Vi porto velocemente un'esperienza di Topcon, è stato annunciato ieri che si è aperta una collaborazione con la Kansas State University dove si è deciso di passare dalla cooperation alla co-location. Si è identificato uno spazio comune dove Topcon e università lavoreranno insieme con risorse comuni con l'obiettivo di targettizzare la ricerca per finalizzare prodotti e quindi lavorare immediatamente e direttamente con i potenziali clienti. Questa è un'esperienza che mi sembra interessante e che va nella direzione di valorizzare quella che è l'attività di ricerca e di trasferimento tecnologico. Grazie a tutti. Perfetto, grazie.